Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna per il Partito Democratico, buonasera Monica Guerzoni, giornalista del Corriere, buonasera Luca Telese, vice direttore del settimanale The Post Internazionale. Allora, Giorgia Meloni continua le trattative per la formazione del governo, oggi è anche intervenuta sulla crisi energetica e la necessaria risposta europea, come avete sentito, ma in tutto questo il PD cerca di trovare una via d'uscita per rialzarsi dopo la sconfitta elettorale e sarà Bonaccini che trainerà e trascinerà il partito verso un nuovo orizzonte subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Stefano Bonaccini, abbiamo detto che Giorgia Meloni continua le trattative per la formazione del nuovo governo, che non è semplicissimo, ma del resto non è mai semplicissimo. Allora, secondo lei che tipo di opposizione deve fare il Partito Democratico al governo più di destra della storia repubblicana? Intanto deve fare opposizione, io credo che ci farà bene, perché noi pur caricandoci tante responsabilità per questo Paese, negli anni scorsi, abbiamo governato senza aver mai vinto le elezioni. E per me deve fare un'opposizione intelligente. Intelligente vuol dire due cose. Uno, persino aiutare laddove i provvedimenti servono per il Paese. Io ad esempio mi auguro che il governo venga formato il prima possibile, perché io tifo per il Paese prima che per me stesso. E poi però anche molto dura e intransigente, come è giusto che faccio un'opposizione, laddove, e alcune già dichiarazioni di questi giorni mi preoccupano, riteniamo possano scassare il Paese o compromettere i diritti conquistati nei decenni precedenti, oppure non dà le risposte giuste, perché ad esempio io credo che il tema delle bollette energetiche o il PNRR, dove ho sentito addirittura dire che lo vogliono cambiare, senza secondo me rendersi conto di cosa stanno parlando, perché più che cambiare il PNRR bisognerebbe convocare un tavolo per l'aumento dei prezzi. Allora, aspetta, adesso ci arriviamo perché sono tutte materie e temi delicatissimi e molto molto importanti, però prima di arrivarci vorrei subito chiederle, siccome questa opposizione intelligente, come lei l'ha definita, la dovrà fare il nuovo leader del Partito Democratico, visto che Enrico Letta è dimissionario, sarà lei il nuovo leader e si candida lei a guidare il Partito Democratico? Guarda, io mi candiderò se, come ho sempre fatto ogni volta che ho accettato di candidarmi a qualcosa, se capirò che può essere utile, perché non servirà il nome di Bonaccini o di un altro per i problemi che abbiamo e se non affrontiamo alcuni nodi e questioni cruciali, come oggi ad esempio sul tema dei contenuti ha detto il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Io intanto condivido il percorso che Letta ha prontato. Allora, aspetta, 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 aspetta. Allora, quindi lei è disponibile, si candiderà alla guida del Partito Democratico? Quando capirà esattamente che cosa? Che è sicuro di vincere, altrimenti forse... No, mi pare Guerzoni che la sua risposta è proprio sbagliata. Un po' maliziosa però. No, non solo è malizioso, è proprio sbagliata, perché se io ragionassi così, e che mi conosce e sa che non lo faccio, non mi sarei mai candidato due anni e mezzo fa, quando tutti mi davate perdente, alla guida di una regione, quando pochi mesi prima... Beh, la gran parte dei giornalisti, basta leggere i giornali... C'era un vento salviniano, tutti altri. Mi sarei potuto candidare sei mesi prima alle europee, visto che già allora guidavo il Consiglio dei Comuni a regioni d'Europa. Va bene, quindi insomma, certamente lei non si candida per perdere, immagino, no? Questo è ovvio. No, no, ma guardi, se ci si candida si può vincere o si può perdere. Io sto ricevendo parecchie richieste di candidarmi da Bolzano a Palermo, la cosa ovviamente fa piacere, vuol dire che c'è anche, immagino, un giudizio positivo su quello che ho saputo fare in questi anni o quello che potrei saper fare, però non è importante il nome in questo momento. Io ho anche poco apprezzato autocandidature in questi giorni, proprio dopo che Enrico Letta giustamente ha detto apriamo un percorso, non mi ricandiderò, la prossima settimana c'è una direzione convocata e noi abbiamo bisogno di discutere prima del profilo che ci vogliamo dare, di conseguenza verranno i candidati e a quel punto vediamo. Ecco, io già mi sento non benissimo Luca Telese, perché è ovvio, questa è una cosa che dicono, hanno detto tutti, allora il profilo, bisogna capire in che direzione si va, il profilo, che cosa vogliamo fare, chi vogliamo essere, allora, intanto tu hai capito qualche cosa già da rispondere a queste domande? Ho capito che Bonaccini si candida, si vuole candidare, però credo che la risposta, oltre la malizia legittima di Monica, credo che la sua idea sia c'è un consenso largo, cioè c'è un'alleanza sui programmi dei gruppi dirigenti che rende questa mia discesa in campo non un gesto da Corsaro che prova a strappare un momento di difficoltà, ma una grande operazione come si faceva un tempo, però i tempi sono stretti, quindi ha ragione le persone, cioè il vostro popolo è rimasto bruciato da questa sconfitta e in questo momento capisce che se non c'è un leader che traghetta un programma, il rischio è che non ci sia nel programma non mi faccia dire Telese che... Non pensa che sia vero, non ha questa sensazione, se esce dai suoi panni e guarda e sente l'umore della gente... Rispondo, noi abbiamo un percorso davanti che deve essere ordinato, perché dopo questa sconfitta netta, se il percorso è disordinato e si parte con le autocelebrazioni e autocandidature prima ancora di fissare quale sia il percorso... Ma qual è il percorso? Mi dica, non so, intanto le chiedo una domanda diciamo banale ma che sono sicura in tanti si pongono. Quando, entro quando deve essere eletto il nuovo segretario del PD? Vogliamo dire prima della fine dell'anno? Io credo che prima della fine dell'anno sia impossibile, sia per le regole che abbiamo, sia perché abbiamo anche bisogno di coinvolgere in una grande campagna... Ma siamo a settembre? Sì, sì, ma guardi... E marzo sono tra sei mesi... Io questa discussione sui nomi la trovo surreale, cioè sul fatto che il PD non vuole parlare dei nomi, ma il PD è nato... No, 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 però adesso per esempio c'è il tema della tempistica che è fondamentale, io penso che bisogna conciliare, basta parlare con i nostri elettori, i nostri iscritti, un tempo giusto per fare un largo coinvolgimento loro e di tutti quelli che vorranno venirci, perché? Qual è il tempo giusto? Perché faccio questa premessa, arrivo, c'è tanta gente che secondo me vorrebbe votare il PD, in questa occasione abbiamo trovato che persino chi ci ha votato aveva a volte dei dubbi, o non è andato a votare per niente, quindi serve un coinvolgimento pieno e che non sia solo un'operazione di sostituire un segretario con un altro o un'altra, come il PD ci ha abituato troppo spesso, dopodiché è vero, non serve un tempo troppo lungo per un motivo, serve un tempo giusto per discutere, ma non troppo lungo perché i tempi di vita e di decisione delle persone rischiano di non conciliare all'inizio del prossimo anno, a gennaio? Non lo so, gennaio febbraio, io penso che debba avvenire nel giro di pochi mesi, dandoci però il tempo giusto per discutere, confrontarci e poi è evidente, come dice Guarzoni, di fianco a un progetto, a un programma ci devono essere le proposte di nomi e cognomi e di facce che incarnino quelle idee. Perché il PD è nato dalla proposta di Prodi unire la provenienza culturale degli ex PC a quella della Margherita, cattolica, riformista eccetera, è stato battezzato da Veltroni con il grande discorso dell'ingotto e dopodiché appunto si è strutturato attorno al nome di Veltroni finché Veltroni non ha fatto il passo indietro per una sconfitta qualunque che era quella delle regionali. Quindi non si è mai potuto prescindere nel PD dai nomi. Sì, però un partito che discute troppo di nomi e cognomi è un partito che rischia di dare l'impressione di discutere poco di contenuti. Come si fa a partire con questa rifondazione, rigenerazione senza costruire purtroppo in un periodo in cui le leadership sono tutto, l'abbiamo visto in queste elezioni, senza scendere in campo nettamente e dire io ci sono e questo è il mio programma, ma non che il partito da solo, diviso come è lacerato, ora si mette in campo e fa una rigenerazione. Io ho detto che non dovremmo discutere di nomi, a breve vedrà che scenderanno in campo i nomi. Ho trovato sorprendente che alcuni si siano candidati un secondo dopo che Enrico Letta ha indicato un percorso ordinato nel quale secondo me dobbiamo dare... C'è la sua corregionale diciamo, Paola di Micheli. Ma al di là delle persone che sono tutte amiche, il tema è che noi se diamo l'impressione che prima ancora di discutere di cosa vogliamo fare, c'è la proposta solo dei nomi e cognomi, diventeremo bandierine e figurine che non serviranno al progetto che dobbiamo mettere in campo. Questo è chiaro. Luca Telese, ma un PD a guida Bonaccini sarebbe orientato e guarderebbe più alla destra del partito, alla sinistra, come sarebbe collocato? Allora, il PD che vuole vincere e che può vincere deve mettere in piedi un campo largo, che quindi tenga tutti quelli che ci possono stare da Calenda a Conte. Questo è il tema. E qui c'è una domanda, perché credo esattamente il 20 agosto mi colpì, perché Bonaccini prese posizione a fianco a Letta e disse che con chi non ha votato Draghi non si può fare alleanza. Mentre invece, prima del voto, secondo me, percependo con sensibilità l'umore della gente, ha detto che io sono per fare l'alleanza più larga possibile. Allora, siccome il gruppo dirigente del PD purtroppo ha il complesso di Fonzi, non riesce mai a dire che ho sbagliato, io vorrei capire quale di questi due Bonaccini è quello giusto. Quello che dice che in Emiliano Magno ha fatto un campo largo e lo voglio arganare ancora di più e che quindi avrà tutti o quello che disse no Conte. Quindi traduco, scusi, campo largo da Calenda a Renzi a Conte per costruire questo nuovo partito democratico, centrosinistra, non lo so, come lo vogliamo chiamare? Un centrosinistra? Come un PD? Disse un'altra cosa. Eravamo tutti d'accordo in quel momento a non fare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle perché Conte aveva rotto... Ma è stato un errore col senno di Fonzi? No, in quel momento non si poteva fare altro. Il vero problema e il vero errore... E poi dopo ha detto voglio un'alleanza più larga. Ho detto un'altra cosa, ho detto dopo il voto sarà inevitabile discutere con tutti coloro che si ritroveranno in un'alleanza progressista, riformista eccetera. Però vede anche qui, noi adesso siamo all'opposizione, abbiamo detto che ci sarà un congresso, il PD secondo me ha perso le elezioni perché non avevamo un profilo di proposito risposta al Paese netto e forte e anche la mancanza di una identità precisa. Ecco, ma questo perché un po' come è successo, almeno così dice Salvini, alla Lega che è stata penalizzata alle elezioni perché ha sostenuto il governo Draghi è successa la stessa cosa al Partito Democratico? No, in quel momento noi abbiamo fatto bene a sostenere il governo Draghi, soprattutto perché lei ricorderà in quel momento nel Paese con la seconda data come era messa l'Italia. No, ho capito, ma nel frattempo si è andati a una campagna elettorale dicendo che Draghi andava bene e che bisognava sostenere. Noi siamo stati al governo del Paese per tanto tempo senza aver mai vinto le elezioni e soprattutto abbiamo dovuto anche acconciarci a governi che non erano propriamente governi nei quali si esprimeva e si poteva mettere in campo un programma progressista e riformista perché l'alleanza aveva un'altra natura. Quello che però voglio dire è che adesso non dovendo votare per le elezioni politiche i prossimi mesi e io proverei anche a evitare di dire speriamo cadano presto così eventualmente li sostituiamo. Lei pensa che Meloni, il suo governo durino cinque anni come sarebbe diciamo normale in un Paese normale? Come sarebbe normale in un Paese normale, dopodiché vediamo se saranno in grado alle tante promesse di far corrispondere i fatti, ma questo lo vedremo. Quello che voglio dire è che adesso il Partito Democratico ha bisogno di rigenerarsi, di degenerare se stesso. Le alleanze verranno dopo e dovranno venire non a tavolino perché dobbiamo decidere adesso... La domanda me la fanno i vostri lettori adesso. Non potete, però scusi Bonazzini, ma voi non potete dire tutto poi, c'è tempo, vediamo, perché i socialisti francesi sono scomparsi così. Sì, ma un'alleanza adesso per fare cosa. Ma non è un problema firmare un patto, è rispondere a chi dice cavolo con due punti in più, prendevamo 20 collegi in più, nella sua regione, nella sua regione, avete che calenda non stracciasse l'accordo di 24 ore prima e l'alleanza col terzo polo oggi io credo che la destra non avrebbe al Senato i numeri sufficienti per avere la maggior... Ma forse se aveste fatto un'alleanza a un comitato di liberazione nazionale, visto che gridavate al pericolo democratico... Però io non capisco perché discutiamo qui che dobbiamo parlare del futuro e dei problemi che al Paese discutiamo di cose che sono già successe e che non servono a nulla. Allora, rispondo, aspetti però, fatemi rispondere. Noi potremo allearci con chi condividerà un programma per il Paese e dobbiamo evitare oggi di escludere qualcuno nel momento in cui si trovassi un accordo programmatico per quello che in futuro cosa dovrà essere? Un programma per essere alternativi alla destra e batterla nelle urne, non nella composizione di governi senza aver vinto le elezioni. Tutto qua. Il resto è la discussione che stiamo provando a fare. Sono inutili in interesse i cittadini. Proviamo a capire che cosa lei intende per partito progressista di sinistra, sarà il PD, no? Eh ma guardi... No, le chiedo, sinistra, centro-sinistra, che PD deve essere? Io sono di Campogagliano, vengo da una famiglia molto umile, papà camionista, mamma immigrante, perché non c'era da mangiare, iscritti al Partito Comunista Italiano. Io la prima volta che sono stato eletto a vent'anni in Consiglio Comunale e Assessore l'ho fatto nelle liste del PC, quindi guardi, io avevo Enrico Berlinguer in famiglia nella mia crescita come riferimento, quindi per me il PD deve essere un partito certamente di sinistra, deve essere un partito radicato, presente tra le persone. E questo lo dicono tutti. No, 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 ma certo, certo, ma concretamente... Non è che lo dicono, io lo pratico tutti i giorni. Certo, perché lei anche, il presidente, è stato rieletto come presidente della regione, quindi evidentemente deve essere anche bravo in questo suo mestiere. Ma, per esempio, Renzi e Calenda sono di sinistra, abbastanza di sinistra, per poter fare, stare con voi? Il Movimento 5 Stelle ha dimezzato i voti rispetto alle presenti politiche, anche perché negli ultimi cinque anni è stato l'unico partito che ha sempre governato, ma stavolta ha preso voti, ed è qui una riflessione che noi dobbiamo fare seriamente, in funzione di tanti che avevano problemi e cercavano protezione sociale. Non è più un voto quello dei 5 Stelle dal mio punto di vista, come fu l'altra volta per gran parte, anti-establishment. E quindi è un tema che andrà discusso. Dall'altra parte, io mi auguro che il terzo polo voglia essere parte... Sì, ma per esempio i 5 Stelle hanno difeso e continuano a difendere ad oltranza il reddito di cittadinanza. Ora, il reddito di cittadinanza deve essere modificato e deve essere modificato nella direzione in base alla quale, se tu rifiuti la prima proposta di lavoro, non hai più diritto al reddito di cittadinanza. Lei sta parlando con il Presidente di Regione che all'inizio della scorsa legislatura, noi ed Emiliano in Puglia, facevamo una sorta di reddito di cittadinanza, si chiamava reddito di solidarietà, e dava alcune centinaia di euro a coloro che erano sotto una soglia ISEE, quindi rischio di povertà, e poi c'era un percorso che nel giro di un po' di tempo doveva provare a reinserirti nel mercato del lavoro. Allora, io da sempre, lo sapete, ho detto che ero contrario all'eliminazione del reddito di cittadinanza, che è una misura che c'è in tutti i paesi occidentali, perché solo chi è in povertà nella disporreazione può spiegare a noi perché gli serve quel sussidio, però va modificato, e modificato radicalmente, nella parte che non ha funzionato, cioè non è stato in grado, quello strumento, di ridare lavoro a chi l'aveva perduto o di darlo a chi non l'aveva mai trovato. Dobbiamo conciliare esattamente queste due cose. Una cosa per favore, ma il fatto che Conte sia una calamita non solo di tanti elettori del Partito Democratico che hanno scelto il Movimento 5 Stelle, ma anche di tanti dirigenti di alto livello e anche di possibili candidati segretari, la preoccupa? C'è una scissione in vista che potrebbe avvenire da una parte appunto a favore del Movimento 5 Stelle oppure guardando alla destra di Renzi e Calenda? La domanda è molto opportuna. Se noi facessimo un congresso nel quale ci dividiamo tra chi pensa che l'alleanza vada fatta solo verso una direzione o solo verso un'altra, secondo me faremo un congresso proprio sbagliato. Noi abbiamo bisogno di ridare un'identità al Partito Democratico, spiegare ai cittadini a cosa serviamo e per quale motivo un partito che con tutti i suoi difetti però, diciamoci la verità, prende circa il 20%, è il secondo partito italiano, è uno degli unici tre partiti che prende più del 10% nel Paese, quindi c'è un problema di frammentazione e senza il quale nessun centro-sinistra potrà battere la destra in futuro e tornare al governo. Ma nel frattempo Conte prova a cannibalizzare il PD, non solo i vostri voti. Per questo abbiamo bisogno di fare un congresso che abbia tempi di discussione ma non sia... Ma c'è fretta, quello che diceva Lillia all'inizio. Per questo dicevo, noi serve un congresso che ordini una discussione, che non impedisca a chiunque di potersi riconoscere, ma che non abbia tempi biblici perché altrimenti potrebbe accadere... Ma i tempi biblici sono a marzo del prossimo anno, è tempo biblico, mi scusi. Lei ha detto gennaio. Deve essere svolto entro l'inizio del prossimo anno. Allora, in questo dipotito c'è un nome che divide, è diventato un simbolo in qualche modo e due state fa Bonaccini accese un grande dibattito perché disse vorrei che nel partito tornassero sia Bersani che Renzi. Ora Bersani è tornato. Di Renzi, che è stato l'uomo in questa campagna elettorale, ha più insultato il PD e il suo segretario, direbbe ancora che lo vuole nella sua casa? Io dissi un'altra cosa. Primo dissi che vorrei che non venissimo noi definiti con i cognomi degli altri, perché è una pratica abbastanza surreale e anche stupida. Seconda, Renzi ha fatto una scelta, ha fatto un altro partito uscendo dal PD. Io invece vorrei contribuire a fare un PD più forte, più largo, per un centrosinistra più forte e più largo che batta da destra la prossima volta. Così scontenta tutti quei renziani che stanno dentro al partito ancora, forse ex-renziani e nostalgici che guardano a lei forse. Ma anche gli anti-renziani. Lei ha questo problema, oltre ai mille che dovrà affrontare qualora diventasse segretario del Partito Democratico. I renziani, gli anti-renziani, Bersani non mi pare che siamo bravi. Ma perché è un dibattito, questo è abbastanza, ripeto, per me è un dibattito surreale. Tutte le correnti, voi siete definito il partito delle correnti, però scusi Bonaccini, tutte le cose in cui si discute in tutte le famiglie, bisogna fare alleanza o no, Renzi ci deve stare o meno, e chi è il leader, non è che non sono interessanti, sono le cose di cui discutono tutti. Le ho detto che noi dobbiamo assi. Solo questo, siccome Renzi era un suo amico, eravate alleati, è ovvio che qualcuno gli dica, ma sono ancora amici o no? Aspetti, io sto governando in Emilia-Romagna a due anni e mezzo, non so se ve ne siete accorti, forse leggete quello che sta succedendo, con un'alleanza che va da Renzi e Calenda fino a Bonelli e Fratelli anni. Tutti scrivete che l'Emilia-Romagna è un esempio di buon governo, in quella regione in due anni e mezzo non c'è stata una mezza giornata di crisi al governo della regione, perché su cosa è che condividiamo un progetto? Come dovrà fare il PD con qualsiasi alleato in futuro? Sul programma e le risposte ai problemi dei cittadini, non sulle forme politologiche. Ma è replicabile a livello nazionale il suo modello dell'Emilia-Romagna? Ma certo, ma può essere replicabile l'alleanza, certamente. Però cambia d'idea, non lo vuole più nel partito, ecco questo è il punto. Vede, io ripeto, ma Renzi ha fatto una scelta molto netta, peraltro Renzi è Calenda. Dice cosa pensa lei, sappiamo che Renzi è uscito, ma lei cosa pensa? Io le ho già detto cosa penso, Renzi ha fatto un altro partito, io ho fatto un'altra scelta. Dice Renzi amico, io sono amico di Renzi, come amico da quando ero ragazzo di Nicola Zingaretti, sono amico di Roberto Speranza, sono amico di tanti, non è questo il problema. Il problema è condividere le scelte che vuoi fare. Dopodiché il terzo polo dovrà decidere se vuole, come in tanti comuni italiani o in tante regioni, sta facendo governare col PD, col centro-sinistra, oppure fare la scelta. E credo proprio di no. D'altra parte hanno perso anche loro, non è che hanno vinto le elezioni. Senta, le correnti del partito democratico sono un problema, quindi sarebbero un problema anche per lei. Perché sono un problema? Sono un problema perché quando le correnti portano un contributo al dibattito, non è che non l'abbiamo portato, sono utili in un grande partito che, come Monica diceva, è nato per unire culture riformiste e progressiste che erano differenti. Il problema è che quando le correnti diventano più una ricerca di percentuali per distribuire le candidature, ad esempio, in Parlamento, succede una cosa che è un problema. Perché è un problema? Nei comuni italiani noi ne governiamo tantissimi, ben oltre le percentuali di voto che abbiamo preso, ad esempio, in queste politiche. E quando scegli un sindaco o una sindaca, scegli figura che non ti chiedi a quale corrente appartengano, se vuoi vincere, ma scegli le figure più radicate, più popolari, che abbiano qualità, che possano farti vincere quel comune. Se questo non accade in Parlamento e ci si distribuisce al di là della qualità delle singole persone, lei capisce che questo è un problema. Quindi io penso che noi... Diventa un Parlamento di nominati. Quindi questo vuol dire che i candidati al Parlamento devono essere scelti attraverso le primarie, così come verrà scelto il nuovo segretario. Intanto bisognerebbe cambiare la legge elettorale e tornare a dare ai cittadini... Eh ma guardi, anche questo è un problema. Sono sicura le primarie, perché bisogna vedere se ne hanno ancora voglia di fare le primarie per scegliere il segretario. È così? Sicuramente. Aspetta, fare le primarie per scegliere il segretario nello statuto è che si dovranno fare le primarie per scegliere il segretario. Le primarie per il Parlamento è sempre legato anche al tipo di legge elettorale. Io vorrei che i cittadini scegliessero di poterli votare anche qui, vede, non dobbiamo essere giudicati sui cognomi degli altri, ma su quello che facciamo. Quando io mi candidai alla presidenza di Emilia Romagna, pochi mesi prima, da segretario regionale del PD, perché io il partito l'ho guidato negli scorsi anni a livelli anche importanti, cambiamo la legge elettorale di Emilia Romagna, io feci togliere il listino, che erano dieci nomi nominati, e tutti i cinquanta consiglieri sono eletti con le preferenze. Noi dobbiamo tornare a un sistema in cui gli italiani possano scegliere chi va a fare il parlamentare. Tutti questi amministratori... Chi non lo vorrebbe abolire oggi? Forse le destre, non lo so. Lei cita sempre l'Emilia Romagna, che è una regione sicuramente virtuosa, che ha molto da insegnare anche a livello europeo. No, io ho citato una legge elettorale che in quel momento ho contribuito a dare, che vorrei rancarsi anche in Parlamento. Che bisognerà che tutti questi amministratori locali e anche regionali, importanti, di spicco, che hanno vinto bene le elezioni, acquisiscano anche un po' una dimensione nazionale, perché lei deve uscire dalla Via Emilia, Nardella deve uscire dalla cintura di Firenze, cioè adesso, dopo aver avuto dei grandi leader, si sono crollati tutti. Io, questo l'ho sempre detto Enrico Letta, a cui va il mio apprezzamento, peraltro, per quello che ha fatto, perché... C'erano pochi amministratori nel gruppo dirigente. No, c'erano pochi amministratori nel gruppo dirigente. Allora, senta Bonaccini, le voglio chiedere una cosa su Giorgia Meloni e le prime mosse da vincitrice di queste elezioni e da probabile futura Presidente del Consiglio. Come giudica le prime mosse, lei della leader di Fratelli d'Italia? Abbiamo detto all'inizio della puntata che oggi ha fatto una dichiarazione sul fronte della crisi energetica praticamente draghiana. Ha detto quello che dice Draghi. Domani si riunisce il Consiglio europeo sull'energia e lei ha detto che nessuno si salva da solo. Ha detto che bisogna che si prendano delle decisioni con buon senso, tempestività. Insomma, esattamente quello che dice Draghi da molti, molti mesi. Mi dica lei come giudica questa Giorgia Meloni in versione governativa? Penso che sia troppo presto per giudicarla. Ma dove c'è la contraddizione? E non ci credo all'idea che dobbiamo parlare male degli altri solo perché sono avversari. Mi pare che già però nella premessa che lei faceva c'è una contraddizione. Se Giorgia Meloni pensa che in Europa si debbano fare quelle cose, bisogna che dica ai suoi amici, a partire da Orbán, che è uno dei più feroci oppositori del price cap, cioè di mettere ad esempio un tetto al prezzo del gas, che è necessario e mi sarebbe piaciuto parlare di queste cose stasera, perché agli italiani interessano più con chi faremo le alleanze, quando si voterà e si voterà fra qualche anno, sapere che risposte diamo ai problemi. La bolletta della luce aumenterà del 60%. Perfetto, questo interessa agli italiani, non le discussioni di politologia o di con chi ci alleremo, quello verranno dopo. Giorgia Meloni lo dica in primo luogo ad Orbán, oppure alcune dichiarazioni a mio parere improvvide che ha fatto sul tema delle donne o dei diritti acquisiti nelle battaglie in questo paese negli ultimi decenni, a mio parere preoccupano. Poi vedremo nel merito e la giudicheremo da quello che dice e quello che fa. E se ci sono cose giuste per il paese le dovremo sostenere, se ci sono cose sbagliate dovremo fare una posizione dura. Per esempio, cosa le sembra giusto per l'Italia del programma di Giorgia Meloni? No, no, non lo so. No, no, ho detto delle proposte... Le faccio un esempio, Calenda e Renzi hanno detto che sono pronti a collaborare sulle riforme e noi sappiamo che il punto centrale delle destre e della Meloni di riforme costituzionali è il presidenzialismo. Io penso che non bisogna avere paura di discutere di nessuna proposta. Il tema vero è che mi pare che se parte la legislatura e il loro primo pensiero è il presidenzialismo invece che dare una risposta a famiglie e imprese che non arrivano a fine mese è un dramma. Poi le dico, personalmente, che andare a toccare una delle istituzioni, forse delle poche, che hanno più funzionato in questi anni, cioè la Presidenza della Repubblica, insomma, io ci starei molto, molto, molto attento, ma nel caso discuteremo. Ma adesso i problemi, se partono dal presidenzialismo, secondo me trovano un abbaglio molto pesante. Bisogna partire dai drammi che gli italiani stanno rischiando di vivere o che già in parte vivono. Lei anche all'inizio della puntata ha detto che ci sono dichiarazioni che l'hanno molto preoccupata di Giorgia Meloni. Quale? Beh, sul tema, ad esempio, dell'interruzione di gravidanza, no? Sul rischiare di compromettere i diritti che sono stati acquisiti in questo paese. Io non vorrei diventare l'Ungheria di Orban. La Meloni dice che non si toccherà. Peraltro, nella sua regione non viene distribuita la pillola abortiva R.U. che dovrebbe essere distribuita anche nei consultori. Si parte la prossima settimana da Parma, poi Modena, Bologna, la Romagna, tutte. La R.U. 486 verrà distribuita nei consultori dell'Emilia Romagna dalla prossima settimana. Perché è un problema là dove, per esempio, governano nelle Marche e Fratelli d'Italia. Eh, beh, vede? Questo è il punto. Noi dobbiamo discutere delle questioni che riguardano i cittadini, i loro diritti, le loro preoccupazioni. Un'ultimissima cosa, prima di far vedere il punto. Ellie Schlein, che è la sua vicepresidente scelta da lei, peraltro, in Regione, pensa che farebbe bene come segretario futuro del Partito Democratico? Non lo so, e quello che farà Ellie Schlein dovrà decidere lei. Noi abbiamo, come sapete, un ottimo rapporto, credo che abbiamo fatto, e stiamo facendo tante cose buone insieme. Intanto è importante che il Partito Democratico si apra, perché il Partito Democratico, ho detto, deve essere rigenerato. Così non va bene e non funziona. Ma vede più un bocettino, però. Sì, infatti, più un ticket o più un derby? Può essere un ticket buonaccini a Ellie Schlein? Non so cosa può essere, io non parlo per conto di altri. Quindi potrebbe essere anche un derby. Voi non sapete, come dire, non posso parlare per conto di altri. La parola lei potrebbe dire, non so cosa farà Ellie, ma una ragazza capace la prenderei volentissima. Vabbè, insomma, adesso non dobbiamo imbeccare. Prima delle elezioni, l'ho detto tante volte, adesso, in effetti, anche io l'ho trovata un po' a prendere. Vedremo cosa farà Ellie Schlein. Ma io credo di parlare bene l'italiano, e gli spettatori hanno molto capito cosa sto dicendo. Sono contento, mi faccio finire, che il Partito Democratico si apra, e gente come Ellie Schlein o Roberto Speranza entrino nel Partito Democratico. Secondo me è un valore. Punto di Paolo Pagliaro, perché si parla ancora di flussi elettorali. Guardate. Quattro anni fa, Giorgia Meloni aveva 1 milione e 400 mila voti. Domenica ne ha raccolti 7 milioni e 300 mila. È stata un'ascesa costante e travolgente, per le ragioni che spiegano studiosi autorevoli, come Lorenzo De Sio sul sito del Centro Italiano Studi Elettorali, Paolo Pombeni e Tiziano Bonazzi su Mente Politica e altri. Il nostro Demopolis dà oggi il suo contributo con un'analisi dettagliata delle motivazioni che hanno indotto molti elettori a votare Fratelli d'Italia. La ragione principale della scelta si chiama per il 68% semplicemente Giorgia Meloni, della quale 6 elettori su 10 indicano la coerenza degli ultimi anni all'opposizione. Altre ragioni per cui si è votato Fratelli d'Italia sono le attese di una maggiore attenzione ai temi della sicurezza e di un diverso approccio alle politiche economiche e fiscali. L'istituto diretto da Pietrovento ha poi accertato che quella che è destinata a diventare la prima premier donna ha raccolto più voti tra gli uomini. Misurato per macro aree geografiche, il consenso appare invece trasversale, ma è più debole dove il Movimento 5 Stelle è forte dunque al sud. Nel voto ci sono poi alcune differenze non marginali per fasce d'età. Il consenso di Fratelli d'Italia è più alto nel segmento 35-64 anni, resta in linea tra gli over 65, mentre si riduce al 20% tra chi ha meno di 35 anni. Dunque Meloni non è stata trainata dal voto giovanile. Il traino è venuto semmai dal mondo produttivo. L'ha votata il 30% degli imprenditori e il 37% tra commercianti e lavoratori autonomi. Allora siamo in chiusura, grazie Stefano Bonaccini, grazie Monica Guersoni, grazie Luca Telese, grazie spettatrici e spettatori. Adesso restate con noi perché c'è Formigli con sua piazza pulita e noi ci vediamo domani a 8 e mezzo, come sempre.